Buongiorno Tra la Strassigna e Firenze Scandici In direzione Firenze Sulla statale 1 Aurelia Rallentamenti per un veicolo in avaria Circa 4 km prima di Donoratico In direzione sud Per la viabilità cittadina a Firenze Termineranno oggi il restringimento di carreggiata Il senso unico alternato Per la posa di un'infrastruttura telefonica In via Baracca Nel tratto tra via di Peredola E via padre Giuseppe Voffito Muoversi in Toscana Inf Servizio in collaborazione con Regione Toscana Città metropolitana e Comune di Firenze Buon viaggio Buon viaggio